La rivalità tra Roma e Lazio, come dici tu, per il ruolo, non è assolutamente un problema. Penso che sia io che Antonio possiamo dare il nostro contributo per l'Italia, dobbiamo pensare solo a quello e non a individualismo. Siamo in nazionale, non c'è nessuna rivalità. Alessandro è un grandissimo giocatore, ha dimostrato di poter giocare in tutti i ruoli benissimo, quindi ripeto, l'importante è il gruppo, è la nazionale. Allè! Allè! Diamo cinque, andiamo cinque. Allè! Al cammino dopo! Allè! Allè! Grazie a tutti